Scarlett Johansson è Nicole. Il suo aspetto è perfetto, è capace di mettere a proprio agio le persone anche in situazioni imbarazzanti. È una grande ascoltatrice, forse fin troppo, ma fa parte dell'essere una cittadina modello. Sa sempre come agire e comportarsi quando avvengono complicate beghe familiari. Anche se c'è da impuntarsi, lei capisce quando mantenere il controllo e quando lasciare in pace il suo partner Charlie. È brava a tagliare i capelli e la sua specialità è preparare tazze di tè in ogni occasione, anche se poi non le va di bere. Non si dovrebbe occupare di chiudere uno sportello, prendere i calzini da terra o lavare i piatti, ma fa lo stesso. Questo perché ha sempre avuto una vita dinamica, è cresciuta a Los Angeles circondata da attori, registi, film e televisione. Le piace tanto quel mondo, è il suo habitat naturale. Per quanto riguarda la famiglia, lei è molto legata a sua madre Sandra, a sua sorella Cassie. Non le manca proprio nulla. È anche brava a fare i regali, sa sempre sceglierli accuratamente e in linea con i gusti di chi le vuole bene. Costantemente attiva, lei si ritaglia del tempo anche per giocare e divertirsi. Non smette mai per prima, né dice mai che è troppo. Abbraccia molto forti ed è in grado di aprire qualsiasi barattolo al posto di Charlie e non ne fa un dramma. Nessuno ha mai fame in casa, ma a lei piace tenere il frigo sempre pieno, anche più del necessario. Aveva avuto l'occasione di rimanere a Los Angeles e diventare una vera e propria celebrità da tappeto rosso per intenderci. Una vita piena di gloria, fama, senza farsi mai mancare nulla, ma ha rinunciato a tutto questo per fare teatro con Charlie a New York. Balla benissimo, è contagiosa, in tanti a teatro vorrebbero seguire le sue orme. Ammette sempre di non sapere qualcosa, di non conoscere un libro, un film o una commedia. È schietta, non si inventa nulla e non ha neanche intenzione di fingere. Adora gettarsi a capofitto in ogni scelta artistica compiuta da Charlie. Si adatta molto bene alle sue direttive e si mette in gioco. È una personalità fuori dal comune, spigliata, forte di una presenza scenica di assoluto rilievo. Un'indomabile forza della natura che sa travolgere chiunque anche per rinnovare gli umori di chi le sta vicino. Questo perché ha sempre mantenuto una tenacia senza pari, niente la può abbattere. Si ha la sensazione che tutto possa andare a meraviglia con lei. È una giostra piena di luci sgargianti, questo è ciò che riesce a mostrare quando è piena di energia, quando è completamente a suo agio ed è in grado di godere della propria vita senza nessun condizionamento di fondo. Quel sorriso è inconfondibile, è il suo segno distintivo, non gli esce mai in maniera forzata, non è falsa in questo senso, ha un cuore troppo grande, anche per Charlie probabilmente. Da sempre tanto agli altri non si concede dei momenti di riflessione per conto suo, non le riesce, è più forte di lei. Questa è la storia di un matrimonio, così fresco, così tenero e talmente compatto che nulla potrà prepararvi alla disfatta di questa unione. Eppure è successo, è reale, tangibile e non possiamo più intervenire. Non rimane nient'altro da fare che passare alla successiva e decisiva fase di questa storia. Grazie a tutti.